salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a fare un video un po più particolare come vedete sono in macchina ragazzi e mi ha contattato un'azienda sono rimasto molto contento tra l'altro oltre i complimenti che mi fate sempre voi ragazzi io vi ringrazio tutti i giorni perché sono contentissimo niente vi dicevo mi ha contattato un'azienda e mi ha chiesto ovviamente mi hanno fatto i complimenti anche loro che hanno detto che spiego molto bene io a volte mi incarto con le parole comunque sia sono rimasto contento ragazzi perché mi hanno detto che gli piacciono molto i miei video e mi hanno chiesto se volevo recensirgli il loro prodotto il prodotto in questione ragazzi è questo qui è uno strumento di audi diagnostica per rilevare tutte quante le spie accese all'interno della nostra macchina posso fare un esempio magari la spie accesa della varia motore scusate se si accende la spia questo strumento è in grado di prima di tutto di vedere che tipo di anomalia si tratta cioè il tipo di errore che c'è e poi è in grado anche di cancellare il codice guasto ovviamente non risolve il problema meccanico quello lì bisogna risolverlo dal vostro meccanico di fiducia però con questo apparecchio ragazzi possiamo controllare in tempo reale l'anomalia che ci dà ok che ne so faccio un esempio magari il termostato non lavora bene si accende la spia motore con questa macchina possiamo vederlo perché vi dà il codice dell'errore e noi possiamo rilevare l'errore che abbiamo in macchina ovviamente ragazzi io vi sconsiglio poi andiamo a vedere come è fatta tutte le funzioni che ha però io vi sconsiglio perché si può anche fare di cancellare l'errore però ve lo dirò un'altra volta ve lo farò vedere bene perché noi se cancelliamo l'errore questo che elettronico vi dà la spia e non risolviamo il problema meccanico l'errore una volta che accende sulla macchina ce lo riterà comunque ok amici adesso ve lo faccio vedere comunque lo scherchiamo insieme e vediamo di cui è composto allora andiamo a aprire la nostra confezione all'interno possiamo trovare questo cavetto usb questo va bene per il trasferimento dei dati e anche per fare gli aggiornamenti per fare uno più di ulteriore poi all'interno possiamo trovare c'è questa confezione ecco qui questo è il nostro strumento e io poi ho già aperto tra l'altro vedete è protetto da questa carta velina così si tirà fuori e questo qui è l'oggetto in questione ragazzi vedete è un ed il modello è y a 101 come vi ho detto è semplicissimo ragazzi non c'è nessun tasto di on off di accensione spegnimento è molto semplice c'è solo questa presa cavo bd2 che va collegata alla presa obb della macchina che generalmente in quasi tutte le macchine ragazzi si trova sotto sotto il volante nella zona dei pedali o magari in alcune macchine nel turno centrale però comunque sia sempre diciamo l'autoguida ok è molto semplice questo qui basta solo collegarlo per accenderlo adesso vi faccio vedere tutto quanto alla componentistica tutta quanta la componentistica di cui e tutte le funzioni che ha all'interno possiamo trovare questo manualino sono quattro pagine che sono è una sorta di istruzioni io a vedere tutte quante tutti i tasti come vanno usati però vi dico subito è solo in lingua inglese ok però non vi preoccupate ragazzi perché questo strumento ci sono dieci lingue disponibili all'interno quindi tra cui anche l'italiano ovviamente quindi è molto specifico adesso noi andiamo a collegare l'apparecchio in macchina e vi faccio vedere tutte le sue funzioni ecco qui ragazzi abbiamo posizionato l'apparecchio l'ho posizionato sopra la mia gamba vedete l'ho appoggiato così questa qui è la presa hobby d2 adesso andiamo a collegare nella presa della macchina questa macchina in particolare una fiat 500 quindi la presa si trova al lato sinistro vedete nella zona lato guida questa presa è obbligata guardate come è fatta questa quarta è tutta quanta dritta e qui ha un leggero scalino quindi è obbligata ad andare in questa posizione non potete sbagliare altrimenti perché se la mettete in un'altra posizione non vi entra adesso lo faccio vedere meglio da vicino guardate vedete questo leggero scalino questa sorta qua sopra qui va posizionato in questa parte così da questa parte non facciamo altro che inserirla mettiamo l'entrata e la spingiamo e il gioco è fatto amici adesso torniamo al nostro visualizzatore e vediamo che già si è acceso allora lo metto vicino così mettiamo a fuoco si riesce a vedere bene eccoci qui ragazzi una volta acceso possiamo vedere il menu principale e ci sono tutte queste voci diagnostico dtt cerca test di detenzione opzione e di allora la prima cosa ragazzi che faremo vi faccio vedere innanzitutto come funzionano i quattro tasti che è molto semplice allora ci sono questi due tasti per scorrere in tutte le funzioni che ha per andare avanti o indietro ok poi c'è il tasto verde per confermare e il tasto rosso per indietreggiare per tornare indietro allora vi dicevo la prima operazione che faremo scorrendo con le frecce andiamo a vedere opzione clicchiamo il tasto verde e andiamo a mettere subito la lingua vedete io la lingua già l'ho impostata ovviamente però noi torniamo indietro guardate vi faccio vedere tutte le lingue disponibili che ci sono ce ne sono dieci in tutto quindi direi che è molto fornito guardate inglese portoghese spagnolo lo mettiamo italiano e confermiamo perfetto poi qui possiamo vedere che c'è anche il test di autoverifica clicchiamo il tasto verde c'è il test del display e qui vi va a vedere una sorta di tutte quante l'illuminazione del display guardate poi dopo di questo c'è il test della tastiera che vi fa vedere i quattro tasti i quattro tasti come funzionano guardate vedete le frecce in basso in alto esc e ok ok e poi dirà tutto ok quando abbiamo finito torniamo indietro sempre con il tasto rosso adesso andiamo a vedere la diagnostica adesso andrà a fare una scansione di tutti quanti rilevamenti per trovare gli eventuali errori in questa ma in questa macchina ragazzi vi dico subito che non ci sono errori e quindi non hanno valie non ha spie accese ma un minuto che si generano che fa fare tutta quanta la scansione qualche minuto attendiamo ecco qui guardate cosa ci dice errore di comunicazione 1 accensione inserita poi scorriamo con le frecce cavo obd2 collegato stretto e 3 verificare se il veicolo è obd2 lamentarsi quindi cosa ci dice ci dice prima di tutto di accendere il quadro perché noi siamo con il quadro spento adesso poi controllare il cavo obd se è collegato bene quindi se è inserito bene magari e vedere se l'obd riconosce la macchina ma in questo caso ragazzi come già vi ho detto abbiamo il quadro spento infatti come possiamo vedere guardate il quadro in questa macchina è spento adesso noi andiamo ad accendere il quadro vedete abbiamo il quadro acceso torniamo nel nostro display facciamo diagnostica lo stesso lavoro attendiamo sempre qualche minuto che fa tutti i suoi rilevamenti ecco qui vedete vi dice stato mill ttc cnt monitor ok in monitor inch monitor n a tipo ign scintilla tutte quante le varie funzioni ragazzi allora qui vi dice vedete leggere i codici se io lavoro leggere i codici cancella i codici dati in tempo reale e blocca fotogramma allora se io vado a leggere i codici e apro codici memorizzati mi dice che nessun codice memorizzato nel modulo andiamo a vedere i codici in sospeso non c'è nessun codice in sospeso e neanche nei codici permanenti non c'è niente perché ovviamente è la prima volta che lo uso e poi in macchina non c'è niente adesso andiamo ad accendere il veicolo perché voglio farvi vedere i dati in tempo reale allora vedete dati in tempo reale apriamo la schermata un attimo che si apre e andiamo a vedere tutte quante le funzioni qui c'è tutto quanto il rapporto di aria benzina l'rpm giri del motore la temperatura del liquido di raffreddamento il rapporto stediometrico se non sbaglio vedete qui rpm se io do un filino di gas guardate questo valore 700 aumenterà vedete 1300 712 che si sono i giri del motore poi ripeto c'è rapporto aria benzina tutti quanti vari livelli la temperatura di esercizio del motore e ovviamente ragazzi non so nello specifico tutte le funzioni e ripeto guardate questa qui a 96 gradi e la temperatura 96 gradi la temperatura del motore vedere ci sono molte voci il rapporto stediometrico aria benzina tutta la carburazione in tempo reale adesso noi andiamo a fare se andiamo su dtt circa vedete ci sono tutte quante le varie case noi adesso dovremmo scegliere fiat io adesso non vado a cliccare su fiat perché se clicco su fiat ovviamente questa macchina non ha errori ragazzi però io se avessimo errori vedete vi dice di inserire il numero del codice di errore io adesso vado su generico perché diciamo lo creiamo noi un allarme un allarme generico per farvi vedere che tipo di anomalia allora andiamo qui mettiamo a zero io sto mettendo un allarme fittizio che non so magari faccio allarme tv 0 98 vediamo cosa ci dice definizione del codice sensore temperatura aria aspirata due circuito alto scordiamo con le frecce cause possibili il codice di questo apparirà se la eco rileva che la rileva che la tensione del segnale del sensore della temperatura dell'aria aspirata è superiore al valore massimo dell'autocontrollo 4,6 vols e meno 50 gradi questo è un errore generico che io ho generato perché vi ripeto la macchina non è un errore magari potrebbe essere anche l'errore della sonda lambda io questo ho messo un codice io perché giustamente la macchina come vi ho detto non c'era nessun errore perché in errore non c'è la memoria un'altra cosa importante ragazzi c'è il test di tensione se noi clicchiamo qui ok guardate mi dice il test di tensione in tempo rapido della batteria voltaggio 14 vols stato buono quindi questa è una cosa molto importante perché possiamo vedere la batteria si sta caricando perché magari se ci accorgiamo nel giro di pochi giorni che la batteria tende ad abbassarsi il portaggio c'è qualcosa che non va magari possiamo attribuire la causa all'alternatore che non carica la batteria quindi questa è una cosa molto buona o pozione qui ci sono le altre allora c'è l'unità che qui c'è l'unità inglese o metrica inglese al sistema normale e metrico dovrebbe essere in miglia se non vado registrazione dati io ovviamente non ha registrato nessun dato e qui c'è il test di auto verifica come ho fatto vedere diciamo che ci sono molte voci però la cosa più importante che io ci tengo a precisare questo test di tensione della batteria perché vi vedere in tempo reale mi fa vedere in tempo reale la batteria della carica come sta vedete un stato buono e questa è una cosa molto importante ragazzi si può fare questo lavoro anche a macchina spenta ovviamente a macchina accesa il valore salirà qui mi da 14 1 se io lo faccio questo valore lo faccio a macchina spenta il valore si abbassa perché qui in questo caso quando la macchina accesa l'alternatore sta caricando la batteria usciamo ragazzi siamo tornati al menu principale se qui andiamo sulla voce di mi va a vedere tutta quanta la versione del del monitor vedete versione 1.0 3.6 tutti quanti i suoi dati e ripeto una cosa molto è molto diciamo molto semplice vedete poi ci sono molte case costruttrici vedete guardate ce ne sono molte poi in questo caso come vi ho detto se non trovate la marca del vostro veicolo andate su generico e ve lo trova io adesso ho messo un numero fittizio 098 potrebbe essere quello che volete magari possiamo generare anche un altro errore ripeto sto facendo questo ragazzi perché nella mia macchina in questa macchina lo specifico non da nessuna anomalia nel quadro strumenti guardate come potete vedere vedete non c'è nessuna anomalia io adesso magari guardate per farvi vedere una dimostrazione mettiamo non so 0 30 pp 0 33 sto sparando è un codice a caso vedete definizione del codice circuito di controllo della valvola di bypass del compressore sovralimentazione e poi ti dice le cause possibili il codice di guasto indica che la tensione del circuito di controllo della valvola di bypass del caricatore turbo super a superiore è superiore al normale intervallo di calibrazione vedete ragazzi quando vi trova un allarme vi dice tutto ovviamente quando vi da quest'allarme qualsiasi allarme che vi dia come vi ho sempre detto prima se noi andiamo a cancellare questo andiamo a cancellare questo questo parametro vedremo che il parametro in macchina nel quadro strumenti sarà cancellato qui però alla prossima accensione il problema si ripresenterà perché dobbiamo risolvere il problema meccanico come avete visto ragazzi è molto semplice da utilizzare questo dispositivo alla lingua italiana possiamo fare la scansione per ricercare gli eventuali errori una cosa che voglio raccomandarvi se voi riscontrate un errore magari vi faccio un esempio c'è un errore che ne so i 0 0 22 che magari sto sparando sto dicendo una cosa a caso è i 0 0 22 corrisponde alla varia motore il problema della varia motore è un diciamo è un'anomalia generale magari non so la vostra macchina in particolare ha il come posso dire ha il termostato che è da cambiare ok fino a quando non cambiate il termostato non cancellate l'allarme perché che succede se voi cancellate il codice di errore lo cancellate alla prossima accensione l'errore vi ricomparirà perché bisogna risolvere anche il problema meccanico ok però questo è un apparecchio molto valido ripeto ha molte funzioni perché il rapporto qualità prezzo ragazzi è ottimo soprattutto la lingua italiana che non è da poco ha il test dell'autoverifica della batteria e questa è una cosa che veramente sono rimasto molto contento perché è una cosa che potete vedere sempre andate in vacanza tanto occupa pochissimo spazio è molto piccolo ragazzi ce l'avete in macchina avete questo dubbio attacca della batteria perché se magari non so vedete oggi che la batteria sta a 14 volts il giorno dopo sta a 13 8 13 va a scalare potete dare la colpa magari all'alternatore che non carica la batteria ok quindi potete vedere sempre in tempo reale la batteria in che stato è poi ripeto è molto intuitivo cosa molto importante questo prodotto è plug and play quindi non ha bisogno di una connessione ad internet per funzionare basta collegare la presa e potete stare dove volete funziona sempre non ha una batteria integrata si ricarica automaticamente una volta inserita la presa le dimensioni sono molto piccole il cavo come vedete saranno buoni 50 centimetri quindi vi consente di usarlo in maniera molto comoda e che dire ragazzi se siete interessati all'acquisto io vi lascio un link in descrizione ovviamente c'è un codice di sconto ringrazio innanzitutto l'azienda king ball per l'opportunità che mi ha dato per recensire il loro prodotto e che dire se vi è piaciuto il video ragazzi mettetemi un like iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima ok amici ciao a tutti